E' stato arrestato il presidente dell'Avezzano Calcio per autoriciclaggio, truffa aggravata e malversazione di erogazioni pubbliche. Andrea Pecorelli è stato posto agli arresti domiciliari. Una misura cautelare è stata disposta sempre ai domiciliari anche per il figlio Federico. L'inchiesta è della Guardia di Finanza di Avezzano sotto il coordinamento della Procura Marsicana. Secondo le prime informazioni, nel mirino delle fiamme gialle marsigane sono finiti i giri d'affari e i movimenti di denaro che riguarderebbero anche la società dell'Avezzano Calcio. Somme, secondo l'accusa, percepite senza alcun titolo. Andrea Pecorelli, romano, 59 anni e figlio del giornalista Mino, fondatore dell'agenzia Stampo Più, è ucciso in un agguato a Roma il 20 marzo del 79 e aveva acquisito la presidenza e le quote di maggioranza dell'Avezzano Calcio a partire dal maggio dello scorso anno del 2023.